Il bubileo è stato accolto ieri al concerto alla Bayerische Staatsoper e oggi alla colazione offerta alla residenza dei re di Baviera è stata per il re e per tutti gli italiani di Baviera e di Germania un motivo di grande soddisfazione e di profondo orgoglio. L'incontro di oggi è stato reso possibile non soltanto dal concorso di tante persone di tanti individui ma anche di diversi organismi e istituzioni non soltanto italiane ma comunque legate all'Italia. Vorrei citare anzitutto le istituzioni scolastiche. Qui a Monaco abbiamo quattro scuole dell'infanzia inoltre una sezione italiana della scuola europea ben sette ginazzi che insegnano l'italiano e fra questi vorrei citare l'Oscar von Villa Gymnasium di München nel Teresium Gymnasium Europe e il Gymnasium Coach che piacerebbe visitare personalmente inoltre in classi di italiano in due reali scelte. A livello superiore, a livello universitario a recitare la prestigiosa Università Ruffi a Sibiglia anche sulla quale è attivissima e sempre tra le scuole del Forum Italia e l'associazione BDB che sta promuovendo la creazione di una scuola bilingue italiana qui a Monaco di Baviera. Lei ha avuto la volontà di incitarla oggi nel suo discorso alla direzione di una scuola europea.